Ciao gente e benvenuti a questo nuovo video sul mio canale Oggi ci concentriamo sui nuovi MacBook che verranno presentati tra poco meno di 24 ore Oggi parlano esclusivamente di MacBook e non di tutti i prodotti che dovrebbero essere presentati Quindi partiamo subito Partiamo un po' da questa funzione che ho detto vabbè mettiamo già perché comunque è importante Svrattutto in questo video Una videocamera aggiornata con risoluzione a 1080p Cosa che sembra banale e in effetti dovrebbe essere banale su qualsiasi PC Ma ovviamente non sui MacBook che ancora portano nel 2021 una fotocamera da 720p 16GB di RAM di partenza e arrivo forse fino a 32 Che regala tanta roba per un portatile E ripozione dei 256GB in favore della partenza da 512 Anche questa cosa molto interessante Perché io ho già quasi finito i 512GB I 256GB Non ci vale nulla per un prodotto da professionisti tale quale è il MacBook Pro Invece parlando sempre di estetica Avremo un nuovo display con cornici ridotte Sia sul 16 ma soprattutto sul 13 che dovrebbe diventare un 14 E un display mini led come quello dei iPad Pro E appunto come quello dei iPad Pro dovrebbe avere anche i 120Hz Cosa molto interessante Tutti i modelli Potenza invariata per i due modelli Cosa molto interessante Sia al 14 sia al 16 dovrebbero avere la stessa identica potenza E le stesse opzioni di configurazione Non dovrebbero avere la touch bar Un po' mi dispiace perché sinceramente io la trovo molto comoda Però secondo me un modello ci sarà con la touch bar Un po' come è successo nel 2016 Quando uscirono i primi modelli con la touch bar Però restocco in quel modello da 13 e anche da 16 Se con i tasti funzioni e senza touch bar Vedremo Dovremmo avere anche un ritorno di porte Infatti dovrebbero avere due di base Tre porte Thunderbolt Al posto delle due o quattro che troviamo ora sui diversi modelli Poi un HDMI E un lettore di scheda SD Mi stavo dimenticando di un altro elemento importantissimo Ovvero il ritorno del MacSafe Anche se non si sa bene come Ma siamo sicuri al 90% Che finalmente ritornerà il MacSafe anche sui MacBook Cosa molto interessante L'HDMI dico evitabile Però soprattutto Quella per l'SD Finalmente Dovremmo avere anche un nuovo colore matte black Che secondo me ci starebbe molto E non su questo modello Ma in futuro si dice che arriverà anche in titanium Il MacWPRO Al posto dell'alluminio Quindi molto più resistente Dovrebbe avere Anche se non ci credo molto Il notch Quindi Face ID E non dovrebbe sicuramente Montare Touch ID Anche se non ci credo tanto Soprattutto perché Taglierebbe praticamente lo schermo della barra Cosa che su un prodotto professionale Non ci vedo proprio Quindi secondo me Face ID se verrà introdotto Verrà introdotto comunque Qua nello spazio sopra Ma secondo me comunque Non verrà introdotto E lasceranno Il Touch ID Qua sul tasto Dovremmo avere una batteria Ancora migliore E io non voglio sapere Cosa succederà Sono 16 pollici Che già questa qui dura Quella su di lui Dura un'infinità Non voglio sapere Quanto dureranno Quelle Cioè Riega Veramente Una vita E poi vabbè Dovremmo avere il processore Che si umoreggia Tanto M1X Che si Non ho così tanto hype Per questo nuovo processore Però Mi aspetto grandi cose Da Apple E forse Dovrebbe essere anche Rimosso il colore argento Quello del mio MacBook Che si Secondo me Anche secondo me È più bello Il grigio siderale Però Vedremo Vedremo Sono molto curioso Per questo evento Domani Recappone In cui vi parlerò Di tutte le novità Che dovremo avere E domani sera In post evento Vi parlerò Di tutte le novità Annunciate realmente Quindi ragazzi Per questo video è tutto Lasciate like Se vi è piaciuto E noi ci vediamo domani Con i prossimi due video Addirittura Seguitemi su Instagram E su Twitter Perché vi aggiorno Di base Su tutte le novità Appena accade Ogni cosa E ciao raga Grazie a tutti i nostri novità Grazie a tutti i nostri novità